Ritenuto di organizzare questo evento informativo perché riteniamo che oggi più che mai sia fondamentale avere una visione a 360 gradi su quello che l'opinione pubblica continua a raccontarci, talvolta anche in maniera distorta. Per cui riteniamo fondamentale affrontare il problema dell'identità di genere da un lato cercando di capire le esperienze di vita vissuta, concreta, di persone che hanno sentito e sentono sulla loro pelle questa problematica e che quindi ci possono raccontare cose che probabilmente molti di noi neanche possono immaginare come siano, giusto per il sentito dire. Dall'altro, visto che siamo avvocati, siamo giuristi, ritengo che sia fondamentale dare un inquadramento giuridico. In questo caso l'avvocato delle Piane che ci relazionerà in merito intanto alla sua esperienza come legale in questo ambito e poi a questa nuova sentenza della Corte Costituzionale di novembre 2015 che apre interessanti scenari per la tutela proprio dell'identità di genere, per le concrete problematiche che ci sono e poi ringraziamo anche la dottoressa Elena Limardo che ci darà una visione dal punto di vista psicologico e del caso psicoterapeutico proprio per avere una visione a 360 gradi di ciò che coinvolge il problema, perché è un problema fondamentale dell'identità di genere.